Produttività ai massimi livelli, episodio numero 4 e amici miei oggi non andiamo a testare ed è per questo anche che siamo in un video leggermente diverso dal solito un kit produttivo magari pensato da un singolo creator o comunque un set di applicazioni per essere produttivi pensati da un singolo creator ma andremo ad analizzare o comunque a testare un'unione di teste bruttissimo detto così ma adesso mi spiego dovete sapere che io seguo tantissimi canali su youtube molti di questi sono americani e molti di questi sono magari designer, fotografi, videomaker e in generale content creator che vloggano e magari fanno qualcosina di leggermente diverso dal solito e sono come vi dicevo americani e molti di questi utilizzano un'applicazione per brainstorming, per organizzare, per essere produttivi e per diciamo elaborare magari una determinata grafica e cose e questa applicazione è proprio Mylan Note un'applicazione che ho iniziato a provare da qualche settimana e che ho deciso di portare al mio sistema produttivo e quindi di provare a utilizzare Mylan Note solo come app appunto per essere più produttivi quindi una settimana con Mylan Note che poi non è stata una settimana diciamo questo esperimento è andato avanti per più di una settimana l'ho utilizzata per circa un mese se mi seguite su Instagram e Telegram lo sapete e quindi oggi vi parlo di come l'ho utilizzata perché me ne sono innamorato e quali sono i pro e i contro quindi iniziamo subito con questo quarto episodio e mi raccomando sapete molto bene cosa fare per supportare questa serie di video allora ragazzi eccoci qui sul mio PC e in generale eccoci qui nella mia home di Mylan Note e come vedete ho personalizzato già da qui vedete una delle sue caratteristiche principali o meglio quella sensazione generale di libertà voi avete uno spazio infinito su cui potete lavorare e su cui poi potete andare ad inserire i vari blocchi che adesso andiamo a appunto analizzare e vediamo anche come l'ho utilizzata qui tra l'altro vedete anche qualche spoiler anche molto importante quindi mi raccomando acqua in bocca nel caso ma comunque iniziamo subito e vediamo appunto come l'ho utilizzata come vedete ho personalizzato la mia schermata in maniera abbastanza semplice ho inserito YouTube o comunque i miei due canali qui dove vado in generale a lavorare da questa parte vedete zero carte o comunque zero board zero appunto blocchi perché adesso vi spiego subito diciamo il mio ragionamento visto che è un'applicazione non proprio completamente gratuita ma poi ve lo spiego anzi ve lo dico ma così ce ne togliamo subito avete un massimo di 100 blocchi utilizzabili però è appunto abbastanza governabile la cosa perché appunto una volta che avete finito di realizzare il progetto potete anche eliminarlo ma vedremo poi se ne ho bisogno magari la acquisto anche perché l'abbonamento non è super costoso ve ne parlerò verso la fine con i contro ma comunque detto questo come vedete ho realizzato una sezione o comunque una colonna dove ho inserito all'interno i progetti Gio99 e Giovanni Romano che sarebbero i miei due canali YouTube da questa parte ho creato un laboratorio creativo dove sto preparando diversi format e cose che non aprirò ci sarà però un video dedicato ai format come creare i format eccetera eccetera perché lo sto preparando e vi farò vedere proprio come ho creato l'ultimo format uno dei format che vedrete prossimamente su Gio99 da questa parte il mio lavoro con Zorro.it qui sto realizzando una specie di brief per presentare qualche progetto nuovo per questo 2022 è quasi pronto e poi da questa parte i miei progetti un po' segreti PB che non vi dirò Gio99 blog che ormai sapete vorrei farlo ritornare sono molto sincero con voi come, quando, perché e in generale eh, non lo so vedrete Food Diary lo conoscete Academy ve ne ho parlato in un precedente video da questa parte invece è la programmazione quindi i video che devono uscire questa settimana e i prossimi quelli a cui sto lavorando in generale per esempio questa settimana so che deve uscire questo video che state vedendo la personalizzazione Google su Gio99 che è quasi pronta e il news su S22 Ultra per quanto riguarda Zorro.it ho realizzato anche un articolo che potete trovare sempre online e quindi questa è la mia personalizzazione da questa parte poi all'interno per esempio ho realizzato poi altri blocchi come per esempio un inventario dei gadget che ho i video in lavorazione e quelli completi ma di fondamentale quello che dovete sapere in maniera fondamentale di MyLanot è questa sezione questa barra che avete qui nella parte appunto sinistra e che cosa abbiamo da questa parte? abbiamo le note quindi un blocco dedicato alle note ma adesso noi cosa facciamo? ci creiamo proprio una nuova board in questo modo perché si creano in maniera super semplice voi dovete trascinare una board all'interno della pagina tutto così qualsiasi cosa qualsiasi blocco dovete trascinare all'interno della pagina e poi potete fare tutto quello che volete modificarlo eccetera eccetera per quanto riguarda le board una volta inserita nella pagina e aperta vedete che da questa parte ci sono diversi template che potete utilizzare come un project plan lo faccio caricare eccolo qui vedete molto bello anche graficamente questa è una cosa che mi fa impazzire potete anche dedicare o comunque far comunicare questo progetto con altri utenti magari team persone del team un mood board che potrebbe essere utile poi abbiamo il creative brief questo è fondamentale l'ho utilizzato anche per il mio per il mio lavoro per quanto riguarda il progetto dedicato al nuovo format weekly plan quindi vedete che qui potete organizzare la vostra settimana e team planner dove potete appunto gestire il vostro team e non solo ce ne sono veramente tantissimi sono molto molto interessanti noi non sceglieremo nessuno andremo a creare una pagina vuota e che cosa possiamo fare grazie agli strumenti che abbiamo da questa parte allora come dicevo note queste sono note al volo potete scrivere cose in maniera così abbastanza veloce poi dopo vi faccio vedere come l'ho utilizzata io queste sono note al volo se volete creare appunto delle note belle approfondite c'è un altro strumento dove potete appunto creare dei veri e propri documenti di testo dopo vi faccio vedere comunque questo è lo strumento appunto note poi abbiamo lo strumento link come funziona questo è semplicissimo voi inserite un link che io adesso mi vado a prendere un attimo dallo smartphone in maniera molto veloce tramite l'ecosistema Apple lo sfruttiamo no e quindi facciamo copia link copia link e lo potete sfruttare al meglio anche in maniera molto diciamo interessante lato visivo perché una volta inserito il link è salvato lui vi mostrerà anche una copertina un'anteprima di quel link e all'occhio è veramente efficace come cosa a me questa cosa di coloro ultimamente mi sta piacendo e avere un feedback diciamo istantaneo è fondamentale e poi cosa molto figa potete vedere il video magari direttamente dall'applicazione direttamente da Mylanote come vedete da questa parte fantastico mi piace troppo to do list non sto qui neanche a spiegarvelo fate delle to do list line fantastica ragazzi perché voi potete collegare diversi blocchi tramite delle linee tramite delle freccette che vi permettono di realizzare poi dei discorsi che poi dopo vi faccio vedere come li utilizzo io vabbè board l'abbiamo visto potete creare diverse board dall'interno di altre board e quindi creare loop infiniti se possiamo dire column che sarebbero delle colonne dove potete mettere poi all'interno diverse altri diversi altri blocchi per esempio se avete bisogno di creare come avete visto nella home questa parte qui quindi di programmazione potete mettere magari una to do list dedicata al video di questa settimana e un'altra al prossimo quindi i progetti lavorazione voi mettete una colonna e da lì poi andate avanti con la realizzazione vedete che io faccio in questo modo e realizzo il tutto siamo arrivati a 80 blocchi mi preoccupate che dopo li liberiamo subito vi faccio vedere come si liberano in maniera super veloce e quindi creiamo e uniamo più blocchi all'interno di una colonna possiamo aggiungere dei commenti questi potrebbero essere utili se lavorate in team da questa parte poi abbiamo ulteriori strumenti sketch ottimo per chi ha una apple pencil e quindi ha un ipad perché potete utilizzarlo anche con ipad ma potete anche scrivere con il mouse c'è anche una piccola guida che potrebbe essere comunque utile poi avete da questa parte colori questo è ottimo per chi come magari lavora ha progetti web e ha bisogno di una palette colori e vuole inserire i colori del brand quindi una brand identity visiva anche all'interno di mailanotte all'interno di un progetto veramente fantastica io amo questa funzione mi piace tantissimo l'autorizzo veramente tanto poi documenti come vi dicevo qui avete la possibilità di creare dei documenti quindi di avere i propri documenti di testo con un titolo e poi una scrittura alla fine semplice come lascia un bel like che male non c'è potete ovviamente mettere in grassetto determinati contenuti potete utilizzare l'italic sottolineare creare delle liste creare delle liste numerate aggiustare il testo e aggiungere ovviamente sempre dei link cosa molto importante anche qui potete esportare poi il file in un pdf documento word markdown non so cosa sia sono sicuro che plain text manco so cos'è però voi cosa importante pdf e word documento che sono fondamentali e funziona molto bene poi altra cosa figa che poi vi faccio vedere sono anche personalizzabili questi bloc in maniera per quanto riguarda i colori il che è fantastico potete aggiungere degli audio nello specifico suoni che arrivano da spotify o da soundcloud dove sto qua potete aggiungere dei luoghi se dovete fare magari un brief sul posizionamento magari di un negozio cose comunque potrebbe essere interessante video l'abbiamo visto heading sarebbero dei titoli ragazzi semplicissimo che poi potete modificare adesso vi faccio vedere come e poi le immagini da questa parte potete semplicemente diciamo importare delle immagini oppure prenderli dalla loro playlist da unsplash eccetera eccetera quindi potete gestire il tutto al meglio detto questo analizzati i vari blocchi vi dico che questi blocchi sono uno personalizzabili come? beh vi basta uno tappare da questa parte potete appunto colorare appunto il background quindi potete farlo come più vi piace questo mi piace perché questa visione veloce dei vari contenuti tramite i colori è molto molto efficace e poi avete la possibilità di colorare magari delle barre in altro per creare delle cose un attimino più interessanti lato estetiche anche per dare un certo ordine dove vi faccio vedere poi come le utilizzate per quanto riguarda l'eliminazione o comunque il rimuovere tutti i blocchi da una schermata oppure cancellare un board vi basterà prendere tutti i contenuti selezionarli e poi buttarli nel cestino via tutto pronto e ripulito da questa parte potete fare la stessa cosa quindi fate così e ciao a tutti come ho utilizzato questa applicazione una delle cose che ho fatto è stata questa qui vedete che ho realizzato una lista con le applicazioni per esempio per quanto riguarda la top app ho inserito un titolo da qui mi sono messo per esempio delle liste di cose da fare per quanto riguarda quel determinato contenuto perché questo è un video realizzato che avete già visto su Gio99 dedicato alle applicazioni poi avete anche i vari link per quanto riguarda i vari documenti ho messo i link per quanto riguarda le app che poi posso condividermi in due secondi nella descrizione ho inserito la descrizione messo uno script da questa parte e poi ho messo magari delle soluzioni cose che magari potrebbero essere utili per esempio ricorda MediaBar EV Wallet Basic Icon Icon Pack sono disponibili solo per Android me lo sono scritto e poi ho lasciato delle soluzioni per ricordarmi poi in fase di appunto upload online tutto quello che di cui avevo bisogno poi per effettuare il tutto sia nella descrizione che in generale poi nel video ecco e questo è come ho ragionato per quanto riguarda un progetto non so se posso farvi vedere altro da questa parte non c'è nulla di super efficace vorrei farvi vedere altro personalizzazione stile non ve lo posso far vedere questo nemmeno questo nemmeno quindi fidatevi di me ci sarà poi un video prossimamente anche per quanto riguarda queste cosucce qui anche perché voglio mostrarvi proprio il processo e come ho lavorato grazie a Mylanote al nuovo format quindi ci sarà un altro video non voglio neanche allungarlo troppo vi ho fatto vedere gli strumenti come li utilizzo eccetera eccetera cosa molto importante da questa parte mi sono aggiunto una specie di come si chiama post it infatti l'ho messo in questo colore giallo ovviamente voi prendete un documento di testo lo mettete in unsorted e da questa parte cosa faccio beh vado a scrivere delle cose al volo cosa molto figa è che da questa parte potete aggiungere o comunque riprendere blocchi creati da smartphone poi dopo vi spiego nei pari nei contro cosa si può fare con smartphone e da qui per esempio mi aggiungo delle to do list delle cose che poi posso riportare nei vari progetti per esempio sono in giro non ho il pc non ho il tablet lo faccio da smartphone poi lo aggiungo in un secondo momento da questa parte ma quali sono i pro e i contro scopriamoli insieme pro e contro come sempre io qui sul mio smartphone ho scritto un po' di cose ho scritto una vera e propria lista di pro e contro che poi ho aggiornato man mano durante i test durante la settimana in questo caso anche più di una settimana durante il mese e quali sono questi pro e contro beh partiamo dai pro e vi dico subito che in cima ho inserito senso di libertà e minimalismo estremo ragazzi l'avete visto è un'app veramente libera veramente minimal molto ben strutturata molto bella anche la user experience proprio come è gestita l'applicazione ma al suo tempo ha dei piccoli limiti che vi permettono di non disperdere troppo la vostra attenzione veramente top ricca di strumenti molto utili lo avete visto avete una serie di strumenti super efficaci super interessanti che vi permettono di fare praticamente tutto ottimi template per brief presentazioni di progetti idee brainstorming eccetera anche in questo caso l'avete visto avete diversi template potete anche aggiungerli o comunque prenderli dal sito stesso c'è proprio un more template più in basso il che è fantastico vi permette di essere molto più veloci magari nella realizzazione di determinate cose non ho visto sono molto sincero con voi in questo periodo di test se possiamo creare dei nostri template e poi utilizzarli penso di sì vi aggiungerò magari ve lo scrivo da qualche parte non lo so sto ancora sperimentando ma mi sta piacendo tanto disponibile e accessibile ovunque smartphone tablet pc mac browser ragazzi veramente potete utilizzare dappertutto e questo è un pro veramente fondamentale perché non importa dove siete non importa nulla vi basta avere email e password dove potete effettuare l'accesso compatibile con apple pencil quindi top se volete prendere degli appunti a penna volete aggiungere del non lo so degli schizzi disegni volete aggiungere che ne so ancora un come si chiama non mi viene storyboard ecco se volete aggiungere uno storyboard potete farlo anche a penna ragazzi è bruttissimo quando non mi vengono delle cose in testa ma vabbè andiamo avanti poi molto facile da gestire e personalizzabile beh questo poco da dire l'avete visto poi il contro ne sono tre in linea generale il primo non è completamente gratuita avete un massimo di 100 blocchi utilizzabili gratuitamente poi dovete procedere o con un abbonamento mensile da 10 euro al mese oppure annuale 100 euro il prezzo secondo me è giustificato da quello che fa l'applicazione potete però utilizzarla anche in modalità gratuita vi basta un attimino gestire un po' questa questione dei blocchi magari quando avete finito un progetto lo eliminate come sto facendo io ultimamente poi nel momento in cui vedo che è un'app efficace che mi serve magari prendo ed effetto l'abbonamento annuale che secondo me è la scelta migliore quella che consiglio perché lo prendete lo pagate una volta e state tranquilli e risparmiate circa il 20% una cosa del genere non ricordo poi note a differenza di notion non super utilizzabili e qui vado un attimino a sottolineare la cosa anche se c'è un blocco utile dedicato ai documenti non me la sento di sceglierla come semplice app per prendere appunti c'è di meglio e anche l'organizzazione dei file di testo non è super comoda e completa l'avete visto potete fare un bel po' di cose potete aggiungere del testo ma non è l'applicazione definitiva per prendere appunti è un'app ottima per essere più produttivi organizzati per organizzare progetti idee eccetera ma per quanto riguarda gli appunti file di testo diciamo preferisco altro in questo caso durante questa settimana nella maggior parte dei casi ho utilizzato le note di Apple lo vedete qui no in realtà non lo vedete tanto mi basta abbassare la luminosità e forse lo vedete vabbè comunque ho utilizzato le note di Apple fidatevi andando avanti ultimo è un'app che dà il massimo su Mac PC e iPad e questo perché questa libertà che tanto mi è piaciuta non è gestibile al 100% da smartphone diciamo che da smartphone se volete riguardare qualcosa vi dovete adattare ad una visione verticale che spesso non è ordinata o comunque identica a quella che poi avete su Mac per l'appunto questa essendo una superficie quella dello smartphone più piccola ma è la nota pensato di realizzare un'applicazione attivino più semplice da utilizzare potete fare praticamente tutto potete vedere tutto ma non potete avere una visione completa come avete da PC o Mac ma è veramente un qualcosa che si diciamo sorvola facilmente perché è un'app fantastica ragazzi la sto amando voi cosa ne pensate fatemi sapere qui sotto nei commenti parlatemi fatemi capire cosa ne pensate prossimamente vorrei realizzare un video sul mio sistema produttivo dedicato al 2022 quindi ci aggioreremo e ci sono un po' di cambiamenti devo essere sincero con voi perché ho ripensato un po' di cose quindi vedremo un bacio e un abbraccio da giù è tutto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate altri sistemi produttivi da testare quello che volete io già ne ho un paio in mente però mi affido anche a voi buona giornata buon abbraccio voglio bene ciao a tutti ciao a tutti